12 anni di carcere per l'ex primo ministro della Malesia, Najib Razak. È stato riconosciuto colpevole di tutti e sette i capi d'accusa nel primo dei cinque processi per corruzione in cui è imputato per lo scandalo legato al fondo sovrano malese, OneMDB. Nel corso degli anni dal fondo creato dallo stesso Razak, subito dopo la sua elezione a primo ministro nel 2009, sono spariti circa 4 miliardi e mezzo di dollari. 700 milioni sono finiti sui conti bancari intestati all'ex premier. Razak ha respinto tutte le accuse, ha parlato di un sabotaggio politico nei suoi confronti e ha negato di aver utilizzato fondi governativi per motivi personali.